I sindaci dei comuni che si trovano sulla I45 scrivono subito al neoministro De Micheli per aprire un nuovo tavolo sull'emergenza. Sono 20 i primi cittadini che hanno inviato una lettera al ministro in pectore delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli per chiedere la convocazione senza indugio e con particolare urgenza di questo tavolo al ministero per sollecitare in modo concreto e urgentissimo ad Anas l'immediato avvio del cantiere per la riapertura della strada statale Trebis-Tiberina nel più breve tempo ammissibile e di adottare tutte le particolarità necessarie a riaprire totalmente il puleto al traffico pesante. L'azione dei sindaci Cornioli e Marcelli presenti alla riunione operativa di ieri a San Piero in Bagno con i sindaci Baccini e Salvi muove sostanzialmente dalle continue problematiche che stanno impedendo l'avvio del cantiere di ripristino della vecchia Trebis-Tiberina. A oggi è rimasta la transitabilità sulle I45 solo per i mezzi con peso fino a 30 tonnellate o nulla di fatto per quanto riguarda la riapertura della Trebis-Tiberina che rappresenta l'unica via alternativa all'asseviario principale. A distanza di quasi sette mesi dall'apertura di questo dossier e degli impegni assunti a più livelli per riaprire quest'ultima strada nel più breve tempo possibile, aggiungono i sindaci, ci troviamo allo stato di fatto iniziale, cioè che è inaccettabile per tutto il tessuto economico e sociale che rappresentiamo. Nella lettera si fa riferimento anche a quanto comunicato da Anas, cioè che dal prossimo 14 settembre saranno disposte delle limitazioni al traffico sulle I45 per il cantiere sul Tevere 4 che interromperanno nuovamente il collegamento tra Toscana e Emilia-Romagna nei weekend nelle ore notturne. Passando, dicono i sindaci, per impervie strade appenniniche non adeguate a ricevere il traffico delle I45 per questioni strutturali e di sicurezza. Alla luce di questa situazione i sindaci chiedono di convocare dunque con urgenza un tavolo al Ministero alla presenza di tutti gli enti interessati.